Comunicazione dell'Aggiunta sul tema sicurezza sul lavoro, finalizzata a porre la necessaria attenzione che il Consiglio ha sollecitato in seguito al crollo di via Mariti a Firenze. All'esposizione dell'informativa è seguito il dibattito in aula, in cui i gruppi hanno espresso le proprie posizioni. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la Regione mette da tempo con atti, con leggi, ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato, quando ci fu l'incendio che costò anche lì alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. Insomma, c'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche, perché ogni anno la Regione Toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti. L'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso, che forse servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazioni delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma nello stesso tempo le aziende possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Credo che il tema della sicurezza sul lavoro non debba mai essere un tema né che vada da una parte strumentalizzato, né che vada da una parte affinché ci siano delle divisioni politiche. La Regione Toscana ha fatto e continua a fare delle azioni che siano appunto a tutela di tutti i lavoratori, ma la strada è ancora lunga. La strada è lunga in Toscana, ma è lunga anche a livello nazionale. Sappiamo che è in discussione il decreto lavoro appunto al Parlamento, che andrà appunto ad intensificare dal punto di vista di controlli, dal punto di vista di gestione, la sicurezza sul lavoro e abbiamo apportato anche noi delle richieste alla Giunta regionale. Sicuramente la Regione Toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli, perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli, però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La Regione Toscana ha sicuramente a cuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince dalla comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la Regione. Stesso discorso vale per il Governo nazionale. Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io, tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non far ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più brutto ci possa essere, per fare battaglia politica. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati, che tra di loro non riescono a comunicare, permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria, arrivata dalla Regione, è quella di introdurre la possibilità di accedere ai cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario, in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza, ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative, ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere, che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario e abbiamo il sistema del massimo ribasso che fa sì che la tutela del lavoro e dei lavoratori passi in secondo piano rispetto a quelli che sono dei conti ragionieristici per cercare di trarre il massimo possibile di ricavo da un appalto. Tutto questo è inaccettabile, il Governo nazionale non sta facendo nulla al riguardo. Io ho fatto un intervento che era leggermente fuori dal coro in quanto sia quello che ha detto l'assestore sia gli interventi di maggioranza e opposizione sono stati interventi del tutto condivisibili perché sono interventi politicamente corretti. Io però ho voluto far astrarre coloro che mi ascoltavano dalla loro opposizione di politici e di parlare da utenti perché vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata. Tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto di fronte a delle tragedie come quella di via Mariti oppure altre che ci sono state come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario. Per l'amor di Dio è bene che ci sia come è stato detto una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. Necessario un impegno collettivo contro il fenomeno della violenza di genere. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo ha aperto il convegno violenza di genere strumenti e nuove frontiere tenutosi a Palazzo del Pegaso. Un'iniziativa di formazione rivolta agli amministratori locali toscani e organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana e dalla Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi come me ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Presente ai lavori la senatrice Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Permettetemi un ringraziamento sincero alla senatrice Valeria Valente. Ha portato avanti in questi anni un impegno fondamentale come presidente della Commissione, un impegno che lascia in eredità una relazione che ognuno di noi deve fare e sentire propria. Solo con un impegno collettivo è possibile riuscire a costruire le condizioni perché tutto questo non accada più. Ed è un impegno che ognuno di noi qui deve sentire proprio. Una mattinata importante. Ci auguriamo che tutte le istituzioni, così come il Consiglio regionale e la Fondazione, continuino a impegnarsi su questo terreno. È un terreno difficile e insidioso, sul quale purtroppo non conosciamo battute d'arresto. Ancora di queste ultime ore altri due femminicidi. Questo a testimonianza di un problema che non necessita soltanto di risposte sul campo penale, repressivo, punitivo, ma soprattutto su un investimento di cultura e di cambio di mentalità. Tra gli interventi quello di Angela Bagni, sindaca di Lastra Signa e consigliera delegata alle pari opportunità della città metropolitana di Firenze. Roberta Guerri, funzionaria della provincia di Siena e componente della Commissione Pari Opportunità della Toscana. E Alessandro Giovannelli, presidente della Fondazione Alessia Ballini. Io in questo convegno porto l'esperienza della città metropolitana per la realizzazione del bilancio di genere su 39 dei 42 comuni della città metropolitana. Sicuramente da questo strumento possono emergere indicatori di lettura che possono poi fare mettere in moto azioni alla politica per davvero dare una risposta concreta a questo tema che davvero tutti i giorni è all'ordine del giorno e sta sconfuggendo con l'Italia intera e il mondo. Quel dato inaccettabile, terribile, ma purtroppo quasi quotidiano che sono i femminicidi, ha necessità di essere davvero in qualche modo visto nella sua complessità. La violenza, sappiamo bene, è la punta di un iceberg. Al sotto del sotto la quale c'è tutta quella parte invisibile, ma comunque nota e conosciuta. E noi dobbiamo lavorare qui, in quell'ambito della trasformazione culturale necessaria affinché davvero possiamo costruire una società in cui la disparità di genere possa essere un lontano ricordo. Siamo ancora lontani da questo. Credo che le province, in particolare la provincia di Siena, ha lavorato tanto in questo terreno, soprattutto agendo proprio in quell'ambito della trasformazione culturale, della dimensione educativa e formativa. È una prima iniziativa fatta direttamente dalla Fondazione per la Formazione Politica Alessia Ballini. Iniziamo questo percorso che vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. Mi batte il cuore incontrare queste ragazze e questi ragazzi, la loro voglia di stare sempre sulla frontiera del cambiamento. Generazione News è un modo per raccontare i temi più scottanti e farlo con gli occhi di una nuova generazione. Senza paura delle domande da porre e senza paura di poter sbagliare. È questo che noi vogliamo costruire, un luogo che dia cittadinanza attiva a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi. Anche il Consiglio regionale era presente a Didacta, l'appuntamento dedicato alla formazione e all'innovazione scolastica che si è tenuto alla fortezza da basso di Firenze. Vogliamo accendere, spiega il Presidente del Consiglio regionale Masseo, i riflettori su innovazione e partecipazione studentesca con due progetti, Art Centrica e Generazione News. Generazione News è il giornale ufficiale di tutte le scuole toscane, questo vuol dire che nasce dall'unione delle rappresentanze studentesche, dell'ordine dei giornalisti e delle istituzioni che ci hanno dato una mano a metterlo in piedi. Siamo andati in tutte le scuole della Toscana a mandare un modulo per trovare i ragazzi che potessero essere interessati a essere i protagonisti dell'informazione e ne abbiamo trovati un centinaio, 80 di questi si occupano della scrittura degli articoli, mentre 20 si occupano dell'aspetto tecnico, quindi il montaggio dei video, la cura del sito, la cura dei profili Instagram, Facebook e di tutti i social. Questi ragazzi vanno a raccogliere le informazioni in prima persona tramite interviste, questionari, lavori sul campo e poi tramite l'aiuto di caporedattori che sono anch'essi dei ragazzi formati per aiutare gli altri a scrivere, secondo un approccio appunto peer to peer che è molto utile per sviluppare un senso di appartenenza proprio verso il giornale. E quindi vanno a scrivere, questi articoli vengono pubblicati sul nostro sito Generazione News e sui nostri canali social. La cosa importante di Generazione News è che non è un semplice giornale che vuole comunicare delle notizie scollegate tra loro, ma ha proprio l'obiettivo, essendo appunto il giornale ufficiale degli studenti toscani, di sviluppare un po' il confronto all'interno delle scuole toscane per creare lo spirito civico e la capacità nei ragazzi di conoscersi e di dibattere, che molto spesso purtroppo manca nelle scuole italiane che con Generazione News invece proviamo a riportare all'interno. A illustrare i progetti in cantiere realizzati in collaborazione con alcune amministrazioni comunali della Toscana, la presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi. Due grandi progetti, un progetto di protocollo con l'ufficio scolastico regionale e avremo ad esempio due progetti realizzati nelle scuole, uno di un giornalino tenuto dai ragazzi e quindi dando loro l'occasione di raccontare il mondo dal loro punto di vista e l'altro invece concentrato sull'uso della tecnologia negli studi artistici in generale, con alcune classi presenti. Poi abbiamo un altro grosso filone di lavoro, di progettualità del Consiglio regionale con i diversi progetti che negli anni abbiamo sostenuto a sostegno della lettura e della diffusione della lettura. Non soltanto abbiamo proposto una PDL al Parlamento che vorrebbe introdurre almeno 20 minuti di lettura libera, silenziosa e privata nelle scuole ogni giorno, ma abbiamo anche sostenuto poi la diffusione di buone pratiche sulla lettura nei comuni toscani. Oggi ne avremo alcuni qui ospiti che ci racconteranno il lavoro che hanno fatto con le insegnanti e con i ragazzi e con i cittadini stessi. Progetti realizzati in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale della Toscana. Una collaborazione questa tra le diverse collaborazioni che abbiamo in atto, molto molto interessante, importante che vede appunto la nascita, che ha dato la nascita a questo progetto Generazioni News, un progetto con un impianto solido, molto radicato nelle realtà scolastiche toscane, che vede la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei giovani, che attraverso un affiancamento da parte dell'ordine dei giornalisti e della fondazione degli ordini dei giornalisti, realizzano questo giornale online che sta ricevendo un grosso interesse da parte delle scuole. Quindi è nostra intenzione ovviamente sostenere questo progetto per radicarlo, ampliarlo ulteriormente e cercare il massimo coinvolgimento possibile delle scuole del territorio. Grazie. Grazie.